Ciao a tutti fumetti di Topolino! I sei amici devono partecipare al loro scontro! E ci sono tutti gli amici che stanno per guardare! Guardate! Ehi! Cosa stai registrando? Tutti gli amici delle collezioni di Polo Poli New, Unboxing e i fumetti di Topolino stanno tutti guardando in diretta a tanto atteso della giornata! Con il fumetto di Topolino 3416 è momento della gara! Uno, due, tre, via! Tutti ad ozzo! Aspettatemi! Ciao! Buona visione! Paolo Paoli New! Iscriviti al canale! Mua! Mettete mi piace e non mi piace! Condividete e commentate! Grazie! Andete in pista insieme a noi! Oh, in pista! Che l'avventura sta cominciando! Motore accedi, casco voi! Sì! Vi aiuta amiche stanno arrivando! In pista! Facciamo via in nuova compagni e sfideremo la velocità! Poi correremo per Topgills! Quando andiamo a questa città? Sì, con il topolino Grazie! Mi aiuta, amiche! Corriamo, dai! Con il topolino e gli amici del rally La polvere si alza dietro di noi Oh, 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 oh Scomma e vai Ah, 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 ah Corri di più Uh, 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 uh Sì, con il topolino E gli amici del rally Evviva! Sì, con il topolino E gli amici del rally Ed ecco i concorrenti Sì, con il topolino E gli amici del rally Oh, dopo la sigla Vi è battata un po' di botta, eh? Ma la vera sfida ha inizio Ciao a tutti, sono io, Sessanta Panini E oggi recensiremo Topolino 3416 Con la scatola gioco di topolino La 24 ore di Paperopoli Con l'esclusivo gioco da tavolo Delle storie Delle 24 ore di Paperopoli E vediamo subito Con Topolino Arriva l'esclusivo gioco da tavolo La 24 ore di Paperopoli Partecipa alla corsa Automobilistica Del Che ci sia Più passa Le auto originali Per personaggi per giocare Scegli il tuo personaggio Usa le carte superpotere Per superare gli ostacoli Imboccare scocciatori E eseguire scomparsi E tagliare per primo il traguardo Non perde le alte uscite Costa 7,90 euro E guarda le facce Dei nostri campioni Abbiamo Zio Paperone Che faccia Gastone A me assomiglia molto A quella di Paperino Paperotto Quella ragazza Che incontra Nel catonome Comis Paperina Ma che cazzo Paperino Guarda che faccina Rockerdak Sembra Il galetto Va e spluga Gne, 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 gne E l'Archimede C'è Archimede La, la, la C'è Archimede E la seconda uscita Uscirà La plancia di gioco Con l'auto di Archimede E L'estensione Zio Paperone T5 La prossima settimana Con L'auto di Rockerdak Con viti tre carte E la plancia da gioco Questi sono tutte E vediamo E apriamo insieme Questa E' la scatola Questi Ci sono le istruzioni dentro Ehm Ti apro io Faccio una pausa Ciao Ciao ragazzi Volevo dire Picassi 99 Perché non hai commentato Perché non hai commentato Nelle puntate Di TopoGigio e TopoTip Volevamo aspettare i commenti Ehm Signore Rispondi Picassi 99 Dopo dopo Ecco qua La 24 ore di Paperopoli Bella scatola vero? Con i giochi di Topolino Ho raffigurato Paperino Paperina E Zio Paperoni E qua abbiamo tutti i personaggi Qua abbiamo Rockedra con gli occhiali trasparenti Che assomiglia molto al E perché sono ci sono i punti di fare Lecce 9 Si sono i punti di fare E' un ing massimo E' un'altra scatola E' una grande specialità E' un ing massimo Io volevo un ing massimo E' un ing massimo E' un ing massimo E' un ing massimo E' un ing massimo il dolce giuso di montagna, partecipate una corsa di omolesca e divertete il mondo guidando delle auto dei personaggi più famosi di Paperoni. Wow! Quindi? Sì! Retolcon! Cosa? Perché non ci sono io? Anche io, grazie, grazie Aless Bertogni di aver fatto questo gioco. Vuoi credere amico? Questo gioco è adatto da tutti. E vai, ci sono Archimede, Paperina, zio Paperone, il tuo nemico, Archimede, Paperino, per giocare tutte le carte che ti siano. Vediamo le istruzioni. Oh, ecco qua le istruzioni. E per completare tutti i personaggi della serie di 24 ore di Paperoppoli. Uuuuuh! Ma quante istruzioni! Ci pieghiamo 40 minuti! Sì, hai ragione, hai ragione. Queste sono le istruzioni di Paperoppoli. Quello che stiamo parlando. I giochi di Topolino. E vediamo l'auto di Joker Duck. No! Scusa? No! L'auto di zio Paperone con un bel detto zio Paperone. Apriamolo subito. Va bene. Qua abbiamo tutte le coglione carte di zio Paperone. Qua c'è il Jolly, qua c'è uno a quattro, vale tutto. Sei sprint, mappa. Uuuuuh! Urasi! Cazzo! Vale tutto, splay, sprint. Cazzo! Guarda! Zio Paperone è davvero un coglione. E le quale carte di zio Paperone. E noi abbiamo trovato zio Paperone. E perché non fa la svita come sta macchina? Non fare... Eeeh! Ciao! Oh, che bello! Un'auto! Perché non muove? Perché è una pedina. E raffigurato zio Paperone. Guarda che faccia. Guarda, sono fantastiche sorprese. Ragazzi, bambini di 60 panini assomiglia proprio ai gelati Gulp della motta plastica. E sotto è plastica come zio Paperone. Su, sono io. E si può giocare. La prossima settimana apriremo anche Archimede. E rocchere la colpiremo. Venite prossimo, oppure no. Non lo sappiamo. Ma sono fantastiche. Le carte sembrano uno. E qualcos'altro. La scatola sembra una puttana. Troppo fico. Questa scatola è troppo fica. Sapete tutti, tutti, che è la questa. Non avete incenzioni. Oh! Ma adesso lo mettiamo qua. Secondo te è così? Sì. Ma tu non lo puoi mettere? Wow! Che bello! Avete fatto queste cose. E' così. Ciao, sono Cazzo. Pronti per la sfida? E vai! Siete fan dei motori, ragazzi? Ciao, ciao! Sì. Ci siamo tutti. Noi abbiamo vinto. Vero amico? Che era? Lo so. Cazzo, papirone! Cazzo, papirone! No, no, e te che erai? Perché hai andato a vedere lì dietro? Ho detto dopo. Capito. Pensavo. E volevo sapere se tutto lì c'è lì fiare. Allora, ragazzi. Siete pronti per la gara più scoinvolgente di... di Topolino Academy Comics? Va bene. La seconda parte tra poco. Abbiamo... Carte aiuto superpoteri. Wow, wow, wow! Devo tutta la mia fortuna alla numero uno. Ok. Razzi. La mappa. 1-4 vale tutto. 6 sprint. Ma che cazzo? Zio, papirone! Zio... Rocker da... Lo vedrai martedì o mercoledì. Non lo so. Queste pappere... Ma ste carte! Sono cazzamente favolose! Sono cazzamente favolose quelle macchine di Zio Paperone. E poi c'è... E poi... Va bene... Va bene. Tra poco è tutto iniziato. Balza. 60 panini che ti parla. La seconda parte arriva alle ore 13. Iscrivetevi al canale. Lasciatevi al canale. Lasciatevi un like. E... Commentate di più ragazzi. E noi ci vediamo la seconda parte per aprire... Topolino 3416. Ciao! Continua! Picasso 99 continua. Guarda tutte le nostre parti. Una ognuna di ogni giornata. brava? Non ! Si говорить pas cose dólares... Puri! 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 Grazie a tutti.